Ehi, ho visto che hai postato una torta bellissima, chi l'ha fatta? Io, sto frequentando un corso di formazione, mi mandano anche in pasticceria ad imparare. Ma dai, posso farlo anch'io? Sì, iscriviti ad un centro di formazione professionale, così oltre alle lezioni in aula puoi fare molte ore sul posto di lavoro. Ci sono altri corsi? Certo, tipo per la lavorazione del legno, per l'elettronica, la meccanica e tanti altri. Imparare lavorando, in Italia si può. Info su sistemaduale.lavoro.gob.it Te lo consiglio!